Ciao a tutti i gamers, bentornati sul canale di GeneticDNA e a questo quinto appuntamento con Tomb Raider Ci eravamo lasciati che la nostra Lara doveva recuperare lo zaino al nostro povero sfortunato amico Quindi... Allora per prima cosa ritorniamo dove ho lasciato il video il quarto video ovvero qui e vediamo di potenziare qualcosina andiamo di potenziare l'arco se riesco questo gioco mi sta prendendo tantissimo ha un bellissimo gameplay una bellissima grafica e anche l'impatto diciamo delle emozioni nella nostra Lara veramente fatto bene il comparto audio sottofondi con l'ambiente ha fatto molto molto bene ok non posso fare nient'altro quindi niente partiamo con il gameplay a dopo ciao 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 Grazie a tutti. 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 Eccolo. Bene. Ci è mancato. Grazie a tutti. Bene. Grazie a tutti. e... direzione. solo che... bene. ... ... ... ... ... ... ......